Il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti rappresenta una delle eccellenze della sanità abruzzese. Lo ha ribadito questa mattina l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì in visita in questo ospedale dove è stata ricevuta dal direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti Thomas Schell e dal direttore del reparto il professore Umberto Benedetto. L'assessore Verì aveva appena concluso a Pescara un incontro centrato sulla risoluzione di un problema annoso, quello delle liste di attesa. La regione sta perseguendo due obiettivi importanti, la riduzione delle liste di attesa e la mobilità passiva. Il reparto guidato dal professore Benedetto all'interno del quale lavorano 120 tra medici e infermieri riesce a soddisfare le richieste del territorio. L'assessore ha visitato il reparto insieme ai giornalisti come stiamo vedendo nelle immagini girate da Diego Martelli. Quanto concerne la mobilità passiva e la riduzione delle liste d'attesa, cosa accadrà in futuro? Vi auguriamo che all'inizio del prossimo anno ci possa essere quella riduzione auspicata secondo le linee guida che abbiamo dato e soprattutto attraverso una verifica e controllo. Altro importante elemento è la riduzione della mobilità passiva. Sono oggi qui a prendere atto e grazie al professor Benedetti e a tutta la sua equip abbiamo solo in questa unità ridotto di 100 numeri di mobilità passiva in questo anno. Vuol dire che 100 pazienti abruzzesi non sono andati fuori regioni ma hanno avuto quell'appropriatezza di cura che questo unità, che questo dipartimento ha messo in atto. Un dipartimento che si evidenzia sia per la professionalità, sia per la sinergia e l'armonia che si è creato e soprattutto anche per l'innovazione tecnologica che abbiamo apportato. Oggi si può lavorare su due camere e quindi la possibilità di recuperare sempre questi pazienti. Sono convinta che l'Abruzzo sta andando nella giusta direzione, affrontando le criticità e soprattutto con ottimi risultati. Superate le criticità che riguardano i centri unici di prenotazione, come aveva annunciato qualche giorno fa? Lo stiamo affrontando, proprio l'iter, il viaggio che sto portando avanti, i momenti di confronto presso le aziende. Ho messo a confronto sia la parte sanitaria che la parte tecnica perché ci sono delle difficoltà che vanno superate. Stiamo presentando anche un nuovo modello organizzativo che vede ancora di più la possibilità di inserire tutto ciò che è l'informatizzazione e quindi dare delle risposte, poter il paziente disdire o comunicare tramite un'app penso che possa essere senz'altro una valida soluzione. Il primario Umberto Benedetto guida il reparto dal 2 maggio del 2021 ed è professore ordinario di chirurgia cardiaca del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara ed è particolarmente orgoglioso della struttura che, ha detto, non ha nulla da invidiare ad altre di livello europeo. Al mio arrivo ho trovato prima di tutto una struttura bellissima all'avanguardia con sale operatorie di ultima generazione che non ha nulla da invidiare con le migliori strutture dell'Italia settentrionale ma anche di tutta Europa. Chiaramente ho trovato un personale sia medico che infermieristico altamente specializzato e ho trovato una direzione ospedaliera attentissima ai problemi della cardiachirurgia e con la sinergia di tutte queste parti siamo riusciti a sviluppare un programma chirurgico che ci ha permesso di aumentare il volume operatorio dai 350 casi l'anno nel 2020 ora siamo a 500 casi l'anno e quindi siamo oltre il 30% di aumento del volume generale e l'aumento non è stato solo limitato al volume ma anche alla qualità degli interventi fatti. Chieti per la prima volta ha lanciato un programma di chirurgia mini-invasiva grazie soprattutto all'investimento dell'azienda per quanto riguarda degli strumenti di chirurgia mini-invasiva di ultima generazione. Oggi tutti i nostri pazienti che sono candidabili chiaramente ricevono un intervento in chirurgia mini-invasiva che permette non solo un beneficio estetico ma soprattutto un recupero molto più rapido che permette ai nostri pazienti di tornare dalle loro famiglie e quando necessario di tornare al lavoro in tempi brevissimi. Abbiamo appena letto gli ultimi dati dell'Agenas e nell'ultimo anno ben 100 pazienti non sono andati fuori regione per ricevere cardi-chirurgia e sicuramente questo è un risultato che ci fa molto piacere. Infine siamo diciamo sì in una fase di ulteriore espansione la direzione ha investito sul rinnovamento tecnologico anche con l'acquisto di apparecchi come ecocardiografi di ultima generazione che ci permettono in questo momento di operare in contemporanea su due sale e quindi il programma chirurgico di questo ospedale per quanto riguarda la cardi-chirurgia è sicuramente in crescita. Stiamo lavorando anche con la linfa vitale della cardi-chirurgia che è il territorio quindi con le strutture di Vasto in particolare di Lanciano per andarci a riprendere in parte i pazienti che diciamo sì che devono afferire a questa azienda ci sono delle nuove direzioni e stiamo diciamo sì in collaborazione con loro espandendo un programma di una rete clinica cardiologica e chirurgica per offrire ai nostri pazienti un percorso assistenziale che non sia solo limitato alla parte chirurgica ma che parta dalla prevenzione sul territorio al referral nei centri nel hub e poi il ritorno ai cardiologi in periferia. Dottor Shell sta per concludersi il 2022 come è migliorata la qualità dei servizi all'interno della Aslan Ciano Vastochietti che lei guida? Noi stiamo andando sempre meglio stiamo recuperando anche il periodo Covid anche per la mancata prestazione che abbiamo fatto sia per l'intervento chirurgico che per le attività ambulatoriali i volumi stanno crescendo le liste di attesa stanno diminuendo per cui direi complessivamente siamo un'azienda che nel panorama italiano siamo diciamo nella metà superiore e non in basso. Come vi state proiettando verso il 2023 e soprattutto quali sono i prossimi obiettivi? I nostri obiettivi sono il recupero delle fughe perché chiaramente l'Abruzzo dopo più di 10 anni di piano di rientro ha sofferto tanto sugli investimenti ha sofferto tanto sul poter assumere personale come voi avete visto questa azienda sta investendo sta assumendo siamo 500 persone in più di quando non sono arrivato per cui diciamo noi puntiamo sul fatto che le abruzzesi possono fidare della rete ospedaliera e del territorio di questa regione e chiaramente invitiamo tutti di venire prima nella nostra struttura e non andare fuori. Sul piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese ci conferma che saranno quattro idea di primo livello e non ci sarà come si pensava in passato una idea di secondo livello in Abruzzo. Io sarò a Roma mercoledì mattina insieme alla direzione strategica per affrontare al Ministero quelle che erano le note che loro ci avevano inviato e quindi prendere atto di quale ipotesi di miglioramento possa avvenire per la nostra regione. Quello che tengo a ribadire è che noi abbiamo presentato una rete dell'emergenza urgenza una rete di reingegnerizzazione dove dobbiamo dare a ogni paziente la giusta assistenza dall'alta complessità alla bassa complessità. Essendo la nostra regione una regione con una diciamo in condizioni orografica molto complesse e avendo una densità della popolazione bassa rispetto a quelli che sono gli indicatori nazionali abbiamo dovuto creare una rete una rete per dare quell'assistenza equa a tutti i nostri pazienti a tutti i nostri assistiti. Adesso vedremo le indicazioni o meglio ancora i suggerimenti che arriveranno attraverso questo confronto al Ministero e quindi ne prenderemo atto.